lezione della guida del sentiero numero 42 19 dicembre 1958 benedizione di natale oggettività e soggettività saluti nel nome di dio e di gesù cristo stasera vi porto benedizioni miei cari benedizioni molto speciali in questo periodo dell'anno le grandi energie d'amore provenienti dal re dell'universo toccano tutte le sfere chiunque sia aperto e in uno stato di quieta armonia può ricevere questa forza che è una benedizione per il corpo, l'anima e lo spirito tuttavia a questa forza spesso riesce così difficile penetrare nell'anima se la vostra emanazione non è armoniosa il suo raggio dorato è costretto a rimbalzare perché vi chiudete adesso ogni volta che sentite che siete risentiti, arrabbiati e feriti anche se per lo più sono sentimenti così superflui e infondati sapete che il rimedio non consiste nello scansarli come se non esistessero quanto piuttosto nel portarli allo scoperto e chiedere a dio, chiedere a cristo di mostrarvi qual è l'origine in voi la dove avete eretto il muro che si frappone fra voi e le forze benedicenti esse sono in attesa di rigenerarvi con un effetto a lungo termine lasciatele fluire in voi, miei cari se siete arrabbiati con un vostro fratello o sorella cercate di comprendere sia voi che l'altro non siate più severi con gli altri di quanto non siate con voi stessi e questo, ahimè, accade ai migliori tra voi cercate di rafforzare la vostra capacità di amare di comprendere e perdonare in modo da poter essere partecipi di questo meraviglioso nutrimento spirituale potrebbe riempirvi il cuore e ogni particella dell'anima ripulendola per sempre da ogni impurità noi del mondo dello spirito siamo particolarmente felici di questo gruppo amici miei perché la maggior parte di voi si è seriamente impegnata i vostri sforzi hanno dato frutti sebbene non possiate sempre rendervi conto pienamente del valore del vostro lavoro ma alcuni di voi lo capiscono o iniziano a capire a tratti incominciate a osservare in voi una maggiore armonia dovrebbe solo poco prima ripeto dove solo poco prima avete provato rabbia e risentimento in molti di voi queste emozioni sorgono ora in grado minore e meno spesso il progresso è indiretto non potete fare progressi forzandovi a non provare disarmonia ma potete risalire all'origine dei conflitti che vi portate dentro questo è il modo per raggiungere un sano distacco che continuerà ad aumentare finché sarete toccati solo dall'amore e dalla comprensione fraterna a questo punto non sarete più ciechi e alle vostre limitazioni ma le affronterete a viso aperto ed esse non vi influenzeranno più negativamente stasera il mio messaggio è dire a tutti quelli che hanno lavorato in questa direzione continuate con tutti i mezzi andate avanti anche se l'inizio è difficile le forze del bene i potenti raggi dorati del Cristo vi riempiranno sempre di più ma solo nei tempi speciali quando queste forze sono più intense dell'universo ma in ogni momento finché non avrete raggiunto la meta continuate a cercare di penetrare le vostre disarmonie in modo da poter ricevere ciò che è in attesa di benedirvi se sentirete sinceramente riceverete un grande aiuto molti dei vostri cari nel mondo spirituale hanno trovato la strada per essere qui stasera sono stati guidati qui ascoltano e vedono anche voi potete ascoltare non potete vedere ciò che agli spiriti è concesso a vedere in questa occasione durante una lezione come questa le forze edificano una sfera che stabilisce tale comunicazione gli spiriti vedono una bella luce decorata un'armonia di splendore come non hanno mai visto prima è il loro dono di Natale da parte del mondo di Dio il mondo in cui gli spiriti vedono e il significato di ciò che osservano si differenziano dalla vista umana quando voi osservate un bel panorama qualcosa che appaia bello può essere meraviglioso da guardare ma non ha nulla a che fare con voi personalmente con il vostro stato mentale con la vostra pace e armonia interiori ma quando gli spiriti vedono la bellezza si rendono conto che quello è un mondo uno stato d'essere che può essere il loro se vivono in sintonia con questi insegnamenti cercate di visualizzare e immaginare che un mondo del genere sia qui intorno a voi e in voi nel mondo spirituale si vede ciò che si ode e si ode ciò che si vede cari amici Gesù Cristo morì sulla croce in piena consapevolezza del suo destino liberamente scelto vita e morte avvennero secondo la sua volontà e per suo desiderio non fu travolto dal destino come accade agli esseri umani per i quali un evento è questione di karma una conseguenza di causa e effetto egli scelse quella vita quella morte rendendosi conto che era una necessità il suo fu il più grande atto d'amore tutti conoscete il piano di salvezza l'ho spiegato lungamente cari amici avete mai pensato al gesto di Gesù come il più grande atto di coraggio mai concepito per un essere umano è già un atto di coraggio affrontare un destino inevitabile con uno spirito di positiva e costruttiva ricerca di sé con un atteggiamento di utile di umile accettazione e quando si è più coraggioso scegliere un tale destino per amore non ha bisogno di spiegazioni il vero amore la vera gentilezza il vero altruismo sono impensabili senza coraggio meditate sul significato del coraggio miei cari se vi manca coraggio è perché siete troppo attaccati a voi stessi e in maniera non sana c'è un genere giusto e appropriato d'amore rivolto a sé la vigliaccheria non è altro che il viziare e compatire se stessi il coraggio attribuisce una causa ad un problema o un'altra persona tanta importanza quanto a se stessi per coraggio e amore in ultima però ripeto perciò coraggio e amore in ultima le analisi sono inseparabili pensateci cari amici non solo comprendete meglio la vita del Cristo e la sua morte ma sarete anche capaci di comprendere e valutare meglio voi stessi vale a dire che avrete più successo nel processo di purificazione alla luce alla luce del lavoro che avete fatto finora non dovrebbe essere difficile vedere dove dimostrate coraggio e dove esso vi manca e laddove il coraggio è carente troverete sempre che manca anche l'amore ora discuterò dell'oggettività un argomento che in passato ho toccato occasionalmente per un essere umano libero e armonioso l'oggettività è essenziale più mancate di purificazione e di armonia meno sarete obiettivi oggettività significa verità soggettività significa invece verità colorita dalla personalità ben che vada una mezza verità in molti casi totale falsità al contrario di una menzogna consa la soggettività si esplica in una menzogna inconscia non voluta tutto questo proviene dal livello emozionale di un essere mentre svolgete l'opera di purificazione troverete innanzitutto la falsità presente nella profondità della vostra anima una volta espulsa quella falsità sarete capaci di seminare la verità in voi stessi solo un percorso di rigorosa autoricerca renderà possibile queste scoperte e i conseguenti possibili cambiamenti ma questo ulteriore punto di vista dal quale osservare l'intero processo e voi stessi in particolare vi aiuterà a fare un passo avanti per incominciare prendiamo quel fenomeno comune per il quale spesso non vedete in voi come grave difetto ciò che criticate negli altri non fa alcuna differenza se il difetto sia esattamente lo stesso o abbia una forma leggermente diversa o modificata l'obiezione ai difetti che osservate negli altri può anche essere giusta ma se giudicate gli altri non riuscendo a vedere che anche voi deviate lo stesso modo da ciò che è giusto e buono la vostra è solo una mezza verità inoltre il difetto degli altri può coesistere con buone qualità che magari voi non possedete quindi il vostro giudizio è falsato perché concentrate le vostre obiezioni su un unico punto dolente senza considerare molti altri aspetti che completerebbero il quadro così cari amici ogni volta che vi risentite per i difetti altrui e per favore chiedetevi non avrò forse anch'io un simile difetto magari in una forma diversa e la persona che sto criticando tanto esprimente non avrà qualche buona qualità che a me manca poi riflettete sulle buone qualità dell'altro che voi non avete ricordate anche di chiedervi se non abbiate dei difetti che la persona che criticate e che vi provoca dei risentimenti non ha questo vi aiuterà a valutare più obiettivamente a vostra irritazione nei confronti delle limitazioni di altre persone e se per caso il risultato della valutazione che fosse che i vostri difetti sono decisamente tanto inferiori a quelli degli altri le vostre qualità tanto superiori allora avrete un motivo ancora maggiore per coltivare tolleranze e comprensione così facendo dimostrerete indubbiamente uno stato superiore di evoluzione il che comporta soprattutto il dovere di essere comprensivi e di perdonare mancando di questa capacità tutte le vostre qualità superiori e i vostri difetti inferiori non significheranno nulla ma se farete seri sforzi in quella direzione Dio vi aiuterà ad essere più obiettivi allora godrete senza alcun dubbio di maggiore pace e quel che ora vi infastidisce così tanto cesserà di irritarvi ogni volta che vi irritate per i difetti di un altro anche in voi deve esserci qualcosa che non va questo lo sapete amici ma quando avete delle occasioni per esaminarvi ve lo dimenticate sempre ma ancora se veramente siete intenzionati a scoprire quel che si cera nel vostro intimo Dio vi aiuterà il fatto che l'altro possa essere tanto apertamente in errore così più di voi non dovrebbe interessare cercate di trovare il granello di imperfezione in voi invece di concentrarvi sulla montagna dell'altro perché è proprio il vostro insano briciolo di facilità a privarvi della pace e mai la montagna degli errori presente nell'altro esiste un'altra forma di estrema soggettività che deriva dalla stessa radice sebbene si manifesti in un altro modo numerosi esseri umani sono severissimi con chi li fa sentire non amati e criticati o al limite insicuri la loro severità è una difesa se foste sicuri del vostro valore non vi sentireste insicuri e di conseguenza svilupperete una naturale tolleranza ma la maggior parte di voi è tuttora talmente insicura da ricorrere ancora a tali imperfetti meccanismi di difesa quando ripeto questo comportamento ricade nella stessa categoria del idealizzare ciecamente le persone del cui amore siete sicuri in tali situazioni siete incapaci di notare in loro proprio quelle tendenze critiche estremamente in qualcun'altra anche se questo è pericoloso miei cari semplicemente perché è una tendenza che si presta bene a indurvi a credere che la vostra idealizzazione esprima amore e tolleranza voi cercate di convincervi di essere buoni e tolleranti nel passare sopra i difetti di chi amate solo perché loro vi amano no amici questo non è vero amore il vero amore è capace di vedere la realtà siete pronti ad amare nel modo più vitale e maturo non cercherete di chiudere gli occhi davanti ai difetti di chi amare ma farete l'opposto se persistete nel chiudere gli occhi è per due ragioni una è l'orgoglio la persona che avete scelto di amare che ha scelto di amare voi non deve avere difetti che considerate inaccettabili o potete ammettere qualche difetto dall'altro come accettate di averne alcuni anche voi sapendo che non esistono esseri umani senza debolezze ma continuate ad ignorare che molte tendenze non vi piacciono pensando quasi inconsciamente che il vostro atteggiamento dimostri amore e tolleranza ma in realtà è spinto dall'orgoglio la seconda ragione è che nel profondo del vostro cuore siete così insicuri della vostra stessa capacità di amare che avete bisogno di una versione idealizzata della persona amata se vi sentite costretti a vedere quella persona in una cornice idealizzata il vostro non è vero amore è una tebolezza e spesso una schiavitù il vero amore è libertà cari amici per superare il testo della verità come si presenta nell'altro in questo momento della sua evoluzione quando raggiungete quello stadio sarete in grado di vedere che chi vi sta a cuore come è veramente e non come vorreste che fosse ma finché chiudete un occhio sulla vera figura dell'altro siete incapaci di amare indubbiamente siete così consapevoli della vostra incapacità sia pure ad un livello inconscio piuttosto superficiale che continuate a tenere gli occhi chiusi timorosi di non poter continuare ad amare se doveste ammettere la verità l'orgoglio e la vostra attuale incapacità di amare veramente vi fanno sbandare da un estremo e l'altro da una parte rifiutate di vedere le persone che vi è cara come in realtà dall'altra giudicate troppo duramente nonostante la critica in sé possa essere giustificata presa a sé la vostra critica può anche essere fondata ma la valutazione di tutta la persona nel suo complesso con le sue innumerevoli sfaccettature che non avete modo di conoscere se insistete ad essere ciechi davanti ai difetti dei vostri cari sarà spesso inevitabile che una crisi uno scossone e uno risveglio doloroso vi feriscono profondamente in effetti a quel punto non sarà l'altra persona ad avervi irritato e ferito ma la vostra stessa testarda cecità passata in una crisi del genere la cosa di cui vi risentite più profondamente è la cecità dimostrata evitate una crisi di questo tipo miei cari se imparate a vedere ed amare gli altri per come sono veramente potete riuscirci vorrei darvi un consiglio amici pensate alle persone che amate di più al mondo e fate una lista delle loro buone qualità e dei loro difetti esattamente come al momento state facendo per voi stessi potete chiedere ad amici comuni per favore mi dite cosa ne pensate ho ragione gradirei la vostra opinione sulle qualità e difetti di questa persona vorrei sapere se li vedete come me in modo da poter verificare se sono obiettivo o meno lo chiede lo scopo di migliorarmi se anch'essi sono sul sentiero tanto meglio a quel punto confrontate come voi e gli altri sono probabilmente più distaccati obiettivi vedete la stessa persona osservate le reazioni nell'udire i difetti delle persone idealizzate e che non potreste o meglio non vorreste mai immaginare quando vi arrabbiate o sentite feriti dentro quello che potrebbe essere il segno che non vi sentiate obiettivi che temete la verità con tutta probabilità a causa delle due ragioni che ho chiarito l'orgoglio e l'incapacità di amare l'altro per com'è veramente altrimenti rimarrete tranquilli anche se la persona amata venisse accusata di un difetto che non possiede prendere in considerazione i difetti delle persone amate potrebbe essere molto salutare per alcuni dei miei amici imparerete a valutare le persone che amate e il vostro amore maturerà e crescerà di statura così uscirete dallo stato di immaturità che vi fa amare come un bambino spaventato che non riesce a vedere la verità nella scorsa lezione ho parlato della mentalità immatura che continua ad esistere nelle vostre immagini il bambino ragiona per estremo buono o cattivo perfezione o imperfezione onnipotenza che garantisce la sicurezza assoluta debolezza che va evitata il bambino può essere il bambino può accettare solo la prima di queste alternative quando scopre che un genitore adorato ha dei difetti e non è onnipotente o si allontana da lui incominciando ad odiarlo e a risentirsi o sentendosi tradito e deluso o seppellisce la scoperta nell'inconscio sentendosi colpevole per averlo trovato nel genitore qualcosa di indegno quelle reazioni continuano ad esistere nell'anima dell'adulto falsando le sue reazioni e i suoi modelli di comportamento per tutta la vita o almeno finché non vengono riesaminati e rivalutati alla luce di un giudizio maturo ed è ardente e aderente alla realtà quando osservate le vostre attuali relazioni da questo punto di vista all'inizio il processo sarà doloroso ma neanche la metà di quanto la vostra reazione inconscia vorrebbe farvi credere non date le rette andate avanti nella vostra ricerca della verità posso promettervi che diventerete persone molto più felice più libere e più sicure per molti di voi questo è l'unico rimedio miei cari vi prego di non dire sbrigativamente che i difetti dei vostri cari li vedete sì potrete vederne qualcuno ma probabilmente solo quelli che potete tollerare mentre probabilmente vi impedite di vedere gli altri in questo modo non fate un concetto della loro intera personalità vedete un quadro che è altrettanto distorto di quanto siete troppo severi e intolleranti il quadro è fuori fuoco in entrambe le situazioni entrambe sono specchi che non riflettono la realtà e ogni specchio distorcia in modo diverso ma siete così spaventati dal confrontarvi con la verità perché in voi persiste ancora l'emozione del bambino per il quale permettere una verità spiacevole riguardo la persona amata è insopportabile e quell'emozione vi spinge a ritirare il vostro amore ma quella non è affatto la verità se vi accostate la verità sapendo che il vostro amore invece di indepolirsi crescerà e maturerà potrete superare la resistenza ad accettare la realtà dovete sapere quale dei due estremi della soggettività sia per voi più importante affrontare per primo entrambe le alternative si applicano a tutti voi ma una delle due è sempre in primo piano iniziate concentrandovi su quella anche l'obiettività richiede coraggio amici miei molti di voi sono ancora troppo deboli e godardi per vedere la verità sia negli altri che in se stessi l'amore maturo significa amare gli altri nonostante i loro difetti conoscendoli vedendoli non chiudendo gli occhi su di essi costruendo poi su quanto di buono già c'è amore maturo significa osservare l'altra persona in termini assoluti di o così o così sebbene possiate in qualche modo avere moderato questo atteggiamento poiché la vostra intelligenza è maturata per ora riuscite ad accettare determinati difetti che non violino i vostri principi e i vostri concetti personali giudicare le persone severamente come se tutti gli esseri umani fossero allo stesso livello evolutivo è ugualmente immaturo l'altra persona può anche non essere meno evoluta di voi ma essere semplicemente cresciuta sotto un altro aspetto perciò non potete paragonare o giudicare semplicemente constatare se non riuscite ad osservare senza risentimento avete bisogno di rendervi conto che quella reazione proviene dalla stessa sorgente dell'altro estremo vale a dire che non riuscite ad accettare imperfezioni e quindi emotivamente siete ancora dei bambini così anche a questo riguardo seguite la via segnata dal Cristo crocifiggete le illusioni costruite del vostro ego per vanità per orgoglio per la vostra persistente incapacità di amare su questa verità potrete allora erigere un vero amore ed ora miei cari passiamo alle vostre domande domanda la preghiera silenziosa senza pronunciare parole è sufficiente oppure la formulazione e la pronuncia delle parole a voce alta rende la preghiera più efficace risposta la preghiera silenziosa se le parole sono pensate sinteticamente è ovviamente altrettanto efficace non c'è alcun dubbio perché il pensiero è una forma esattamente quanto una parola pronunciata in effetti se una parola viene verbalizzata a bassa voce senza l'impatto dell'emozione e del significato ha molto meno potere ed effetto perciò è una forma molto più debole della parola solo pensata ma profondamente sentita tuttavia se in una riunione di gruppo una persona trova difficile pregare di fronte agli altri la cosa va approfondita perché questo sta ad indicare un blocco che cosa significa il blocco spesso indica orgoglio sì amici ad alcuni di voi questo potrebbe sembrare strano poiché potete spiegare così bene che la vostra incapacità di pregare di fronte agli altri è dovuta alla modestia eppure quando analizzate i vostri sentimenti sul perché sia tanto imbarazzante pronunciare una preghiera di fronte ai vostri amici scoprirete che il vostro imbarazzo divisa da un senso di umiliazione quando pregate Dio vi sentite umiliati con relativa naturalezza e apparire così umili di fronte agli altri vi fa sentire come se veniste umiliati essere umile è qualcosa che una parte delle vostre emozioni vuole evitare in presenza di altre persone volete apparire sicuri in cima al mondo non volete mostrarvi agli altri per come siete veramente come dovete mostrarvi a Dio barcollanti insicuri incerti in altre parole mostrare la vostra vera natura come mostrarla a Dio vi dà l'impressione di umiliarvi e questo è orgoglio la persona davvero umile non teme di mostrarsi così com'è veramente ha il coraggio di essere se stessa perciò in questo unico piccolo sintomo dell'avere difficoltà e pregare davanti agli altri si trova un elemento molto significativo del vostro stato emotivo che ha bisogno di essere indagato se di fronte agli altri non riusciste a pregare col cuore quell'incapacità è proprio la cosa che dovreste superare non necessariamente forzandovi a farlo sebbene questo possa aiutare ma indagando nelle vostre reazioni psicologiche e valutandole alla luce della vostra attuale verità è sempre bene accostarsi alla meta da due lati da quello esteriore e da quello interiore domanda non potrebbe trattarsi anche di timidezza risposta voi potete razionalizzare e coprire i vostri sentimenti con molte spiegazioni che cos'è la timidezza dopo tutto che cos'è un complesso di inferiorità in questo caso non è altro che è una forma di orgoglio perché chi è così timoroso di come apparirà agli altri chi tiene così tanto l'impressione che suscita è orgoglioso o se preferite panitoso è la stessa cosa la timidezza è una delle manifestazioni di un complesso di inferiorità la sfacciataggine ne è un altro è una questione di temperamento e carattere individuali tutti i complessi di inferiorità hanno il comune denominatore dell'orgoglio e della volontà egoica volontà egoica perché agognate talmente tanto alla gratificazione del vostro orgoglio che o agite con più sicurezza di quanto ne proviate mantenendo quindi a voi stessi mentendo quindi a voi stessi o altrimenti è la forza della vostra volontà egoica a paralizzarvi e rendendovi timidi e dove esistono l'orgoglio e la volontà egoica deve esistere anche la paura se non foste affatto interessati a ciò che pensano gli altri restando sicuri di voi sinceramente sinceri con voi stessi come siete adesso e se aveste il coraggio di essere ciò che siete nessuna paura potrebbe toccarvi temete inconsciamente che gli altri vedano che non siete come il vostro comportamento esteriore vi fa apparire temete che il vostro orgoglio e la vostra volontà egoica non vengano gratificati se non fosse così e voi non foste timidi non ci sarebbe alcun complesso di inferiorità un complesso di inferiorità non è determinato dall'effettivo merito e valore esiste solo quando si vuole essere più di ciò che si è così se i miei amici esamineranno i loro sentimenti di inferiorità da questo punto di vista faranno un grande progresso nel liberarsi delle loro paure e anzi domanda gli animali uccisi a scopo alimentare vanno nella stessa sfera degli animali domestici quando muoiono risposta non fa alcuna differenza per quale ragione un animale muore è come per l'essere umano la sfera spirituale cui accede un essere umano nel momento del trapasso non è determinata dal tipo di morte in cui la incorsa l'anima la sfera è determinata dall'evoluzione e dall'assolvimento dei compiti previsti per ogni esistenza domanda potresti dirmi per favore in che cosa consiste il risveglio di un animale dopo la morte come si risvegliano non capisco il concetto di anima al gruppo di cui hai parlato cosa si intende per le anime di gruppo risposta l'anima di gruppo deve essere intesa nel senso che un animale è una particella di un'intera anima proprio come l'essere umano è metà di uno spirito completo l'altra metà che viene detta doppio può essere o meno incarnata per gli animali la sua divisione va oltre un intero essere consiste di molte particelle che sono incarnate in differenti forme di esistenza più bassa l'evoluzione più grande è la sua divisione con il procedere dell'evoluzione esse tendono a riunirsi e a formare un tutt'uno il processo di risveglio di un animale è molto simile a quello di un essere umano a seconda della gravità di una malattia di un incidente improvviso seguito da uno shock ci può essere per l'animale un periodo più o meno lungo di riposo o di incoscienza in altri casi l'anima è destra e libera nel momento stesso in cui scivola fuori dal corpo fisico è felice si sente leggera e prima di reincarnarsi può vivere per un certo tempo in una sfera animale può far visita ai suoi precedenti padroni in ogni caso di solito è molto più felice al di là che sulla terra comunque non si deve generalizzare ogni caso può essere leggermente diverso ma ci si prende cura di ogni animale ci sono spiriti addetti proprio a tale compito domanda in relazione a quanto hai appena detto circa il complesso di inferiorità in un'altra occasione desti una spiegazione differente mi domando quale sia il collegamento perché sono sicuro che debba essercene uno dicessi che un complesso di inferiorità è in realtà un complesso di colpo quale reazione sbagliata ai propri difetti risposta ha perfettamente ragione la connessione è questa se si è orgogliosi che è un difetto non è forse naturale sentirsi colpevoli l'inconscio della personalità dirà sono orgoglioso so che non è bene esserlo non voglio avere questo orgoglio perciò lo nascondo a me stesso la vostra preoccupazione per l'opinione degli altri vi porta a violare la vostra personalità il vostro interesse a quello che gli altri pensano di voi viola la vostra personalità non siete onesti con voi stessi è questo forse uno dei più grandi errori spirituali del quale inevitabilmente scaturiscono altri errori e questo vi fa sentire in colpa domanda che relazione e differenza ci sono fra il temere la disapprovazione e il desiderare l'approvazione come nel timore della pubblica opinione risposta non c'è necessariamente una differenza ma potrebbe essercene una se una persona è eccessivamente interessata all'opinione pubblica è sicuramente perché ne ricerca l'approvazione e se non viene criticata si sente al sicuro inoltre non le piace sentirsi diverso quando si sente diverso dagli altri un bambino soffre per lui essere diverso significa essere inferiore quando cresce a volte quella tendenza rimane e si manifesta con una esagerata adesione alla tendenza di massa all'opinione della maggioranza giusta o sbagliata che sia l'opinione pubblica può essere corretta in molti frangenti ma se una persona vi aderisce prima di analizzare le sue personali opinioni diventa un bavaglio la persona libera disinteressata alle opinioni altrui sicura di se stessa che è diretta solo alla sua conoscenza e a Dio esaminerà ogni questione singolarmente e poi sceglierà liberamente la sua linea di condotta in alcuni casi concorderà con l'opinione pubblica ma la sua adesione sarà ben diversa da quella di una persona schiava dell'opinione di massa in altri casi quella persona dissentirà della pubblica opinione poiché non appare giusta e sarà disposta a pagarne il prezzo e questo è l'atteggiamento sano è chiaro interrogatore sì fin qui è chiaro ma in che modo si differenzia dal volere l'approvazione risposta non è diverso direi che ne rappresenta un aspetto in alcuni tipi di personalità il forte bisogno di essere approvato dagli altri si manifesterà con la dipendenza dell'opinione comune in altre personalità si cercherà l'approvazione pubblica comportandosi in modo opposto una persona del genere può schierarsi sempre contro la pubblica opinione per lo stesso motivo di fondo che ha quella legata all'opinione generale entrambi i modi possono essere sbagliati entrambi possono essere maturi e armoniosi per un individuo maturo e armonioso tuttavia non c'è un modello prestabilito in un caso condividerà con l'opinione pubblica in un altro se ne discosterà ma colui che vi aderirà o ne dissentirà sempre può a ragione essere sospettato di essere mosso da motivazioni scorrette il motivo per cui una persona sceglie di manifestare la sua insicurezza e la sua dipendenza in un modo o nell'altro e nel modo opposto dipende da molti fattori è una questione di evoluzione di ambiente di influenze e più di tutto naturalmente di tratti personali e di carattere individuale di solito non ci sono due persone che reagiscono allo stesso modo in una stessa situazione e nelle medesime condizioni miei cari cari amici in questa stanza stasera ci sono gli angeli di dio venuti a benedirvi la benedizione si estende anche a tutti gli amici che sono assenti a tutti coloro che seguono questi insegnamenti continuate su questo sentiero miei cari grazie al vostro streno impegno in così poco tempo avete portato a termine molte cose non fermatevi ma continuate così e otterrete la forza dell'amore e della compassione che possono essere vostre solo scendendo nel profondo del vostro essere per affrontare voi stessi con onestà nel nome di dio nel nome di gesù cristo che ha compiuto il più grande atto d'amore e di coraggio per tutti voi singolarmente confidate di arrivare al successo una volta e superate le difficoltà iniziali è indubbiamente l'unico vostro sforzo che possa avere un reale successo durevole ricevete queste forze particolari tutti voi lasciate che i raggi dorati penetrano il vostro cuore la vostra anima il vostro spirito per sostenervi la luce di dio brilla su di voi siate in pace siate in dio avete ascoltato la lezione della guida del sentiero numero 42 benedizione di natale oggettività e soggettività per ulteriori informazioni visitate il sito www.bibliotecadelsentiero.org www.bibliotecadelsentiero.org www.bibliotecadelsentiero.org